Il Comune di Torano Nuovo si è aggiudicato il prestigioso Bando Sport e Periferie promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ristrutturazione e riqualificazione di un centro sportivo multidisciplinare e rilancio del territorio. Il progetto vinto è l'unico della provincia di Tenomo di ben 400 mila euro a fondo perduto ed è stato curato grazie all'assistenza tecnica del Consorzio Punto Europa, struttura a supporto degli enti locali che ha sviluppato una significativa esperienza in ambito di progettazione nazionale e internazionale. C'è grande soddisfazione, è stato un importante lavoro di squadra, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, ci siamo avvalsi della professionalità, del contatto del COPE ed è stato molto importante. C'è stato un lavoro importante anche da parte degli uffici comunali che sono riusciti a trovare il cofinanziamento perché senza il cofinanziamento di 150 mila euro, voglio ricordarlo perché è una cifra importante per un comune di piccole dimensioni come Torano Nuovo, non avremmo potuto accedere al massimo finanziamento, quindi il plauso a chi ci ha lavorato, a chi ci ha creduto tanto, adesso siamo a lavoro per poter andare avanti, ci fa molto piacere essere tra l'altro l'unico comune della provincia di Tenomo e sarà sicuramente una grande e bella soddisfazione per tutta la comunità trovare in futuro degli impianti sportivi riqualificati e sicuramente valorizzati. Grazie a questo finanziamento il centro sportivo subirà una completa ristrutturazione che comprenderà la creazione di nuovi spazi dedicati a diverse discipline sportive, la modernizzazione delle infrastrutture esistenti e l'efficientamento energetico. Ciò garantirà ad atleti appassionati di sport e membri della comunità di poter beneficiare di strutture all'avanguardia che favoriranno la pratica sportiva, la competizione e la promozione di uno stile di vita sano. Sono pochissimi i comuni in Abruzzo, però sta per uscire il nuovo bando che uscirà probabilmente entro il mese di giugno. Parliamo di fondi importantissimi perché sono a fondo perduto, il comune non deve investire un euro se non una compartecipazione laddove volesse aumentare anche la propria capacità di punteggio nella valutazione dello stesso progetto. Però, ripeto, sono fino a 700 mila euro a fondo perduto per i comuni, in questi tempi è molto importante, soprattutto perché i progetti vanno investiti con queste risorse e non con i fondi del PNRR che vanno restituiti. Dobbiamo ripetere, è importante concentrarsi sui bandi nazionali, il PNRR è un'attività straordinaria e vanno realizzati progetti straordinari. Grazie a tutti.